Il cambio del modello economico, l'abbandono dei processi industrializzati in Europa ha fatto sì che molti edifici siano stati abbandonati. In questo abbandono c'è rientrato sia aree industriali e produttive, sia residenze, sia moltissimi servizi, teatri, cinema. Questo processo di cambiamento di modello insediativo ha fatto sì che gran parte delle nostre città abbiano moltissimi edifici abbandonati. Troppo, troppo perché contemporaneamente si continua a costruire e troppo perché all'interno di questi edifici c'è un'energia, un'energia grigia che è quella che è servita a costruirla. Troppo perché questi edifici possono servire a qualcun altro. Quello che sta facendo Cittadinanza Attiva con la sua campagna disponibile è quello di cercare di trovare i sistemi per cui questi edifici possono essere recuperati. Ma non per fini speculativi, ma dal basso, attraverso l'utilizzazione diretta da parte dei cittadini di questi spazi. Cercando di capire a chi possono servire e in quale maniera questi cittadini possono direttamente riutilizzare questi spazi, senza portare un documento per i proprietari, ma lasciando questo enorme capitale energetico e di manufatti a disposizione di cittadini stessi. Quello che vuole fare la Cittadinanza Attiva con questo suo progetto disponibile per il recupero degli edifici abbandonati è quello di far raccontare le storie ai diretti interessati. Raccontare queste storie di come si sono stati recuperati questi spazi, di che cosa è stato fatto, di quali sono state le difficoltà che i cittadini hanno incontrato, di quali sono stati i vantaggi sociali che questi recuperi hanno portato, questi riusi hanno portato. Quindi presentare quella multiforme quantità di attività che viene svolta in questi spazi, tutte quante volte a fornire servizi ai suoi cittadini, in quanto i cittadini stessi sono gli attori diretti, quindi sanno esattamente che cosa servono e come poter rispondere alle proprie esigenze e ai propri desideri. Un fattore comune che unisce questi interventi fatti direttamente dai cittadini è l'economicità. I cittadini quando intervengono lasciano, mantengono la struttura edilizia più o meno simile a quella che era stata progettata. E intervengono con piccole azioni, piccole azioni perché non hanno i soldi per poterne fare di grandi e perché in realtà loro si adattano e adattano alle loro attività agli spazi esistenti. Questa è una soluzione del tutto energeticamente, ambientalmente e anche socialmente fondamentale per far fronte a questo sperpolo di energia che in questo momento attanaglia il nostro modello di vita. Perché in realtà con poco si riesce a recuperare tanto. Il riuso, il riuso sociale, il riuso diretto da parte dei cittadini è la forma più adeguata per combattere gli sprechi energetici e di risorse. E quindi un'operazione non solo interessante dal punto di vista di produzione creativa ma anche di modello che viene usato per recuperare questi oggetti. Non alle grandi trasformazioni urbane, non agli abbattimenti e alle ricostruzioni ma a una maniera puntuale, attenta di recupero dei manufatti esistenti. La campagna disponibile come prima azione ha fatto un censimento, una ricerca per cercare di capire quali sono i soggetti che in questo momento operano sul territorio e ha costruito delle piccole interviste, dei piccoli video attraverso i quali spiegare e raccontare quelle che sono le esperienze in corso. Di seguito ci sono questi piccoli video che abbiamo registrato in questo momento nella zona di Reggio Calabria ma stiamo allargando tutto il territorio nazionale. Le esperienze sono multiformi, sono fatte da persone di tutti i tipi, sono più istituzionalizzate e meno istituzionalizzate, sono azioni dirette, sono occupazioni, sono operazioni concordate con le amministrazioni in una ricchezza di elaborazione e di creatività che non trova confronto. Il nostro obiettivo sarebbe quello di non bloccare questi percorsi ma fare sì che le amministrazioni potessero in qualche maniera sostenere anche solo non entrando in conflittualità con queste azioni, trovare delle soluzioni che siano buone per i cittadini e al contempo interessanti le amministrazioni, cioè quello che vorremmo fare è non perdere, non limitare questo enorme patrimonio ma sostenerlo in qualche forma. Grazie Grazie